salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sono dog tiger ed oggi ragazzi siamo su un video tutorial ragazzi come avete letto dal titolo oggi vi imparerò come avere un casino di soldi su farming simulator 17 allora ragazzi prima di incominciare il video vi voglio dire qualche cosina ieri è uscito il mio primo video test mod per quanto riguarda sempre farming simulator 17 ragazzi state sempre aggiornati perché usciranno altri video sempre per quanto riguarda i test mod e uscirà in questi giorni ragazzi la prima puntata della serie quindi non vi svelo altro e andiamo a vedere come avere un sacco di soldi su farming simulator 17 allora ragazzi dobbiamo ora vi passo per passo vi farò vedere perché ragazzi come ben sapete io non corro nei video voglio farvi vedere passo per passo quindi allora dipende ragazzi ora che sistema operativo avete perché io ho il 10 quindi windows 10 dovrebbe essere sempre lo stesso allora dovete andare su computer cioè questo pc e andate su documenti my games farmix simulator 17 e ragazzi andate nel vostro primo set game dipende quanti sabbataggi avete io ne ho uno che lo sto usando solo per provare i miei e fare test mod e niente quindi cliccateci poi dovete aprire con cadete il canale poi dovete aprire questo cliente ragazzi voi lo potete aprire anche con notte il notepad più più quindi dipende cioè a vostro invece lo apri quindi poi clicchiamo su modifica e clicchiamo su trova scriviamo money facciamo Trova successivo Non è questo Ancora Non è questo Ecco Ok E questo qui Dovete cliccare tre volte Invio Praticamente vi porta Al Diciamo Al terzomone Cioè che quello lì È quello del Dei Dei soldi Allora ragazzi Qui io ho messo Cento miliardi Vabbè Ragazzi voi potete mettere Che adesso Mettiamo un milione Tre, quattro, cinque, sei Mettiamo un milione Dai Mettiamo un milione E uscite Fate salvo Ovviamente E uscite Ragazzi ci Vediamo direttamente Nel gioco Eccoci qua ragazzi Dentro al gioco E Come ben vedete Abbiamo Un milione Di Euro Quindi ragazzi Questo trucco Funziona Tranquillamente Lo Potete usare Per quanto riguarda Come sto facendo io Come ho detto prima Che sto Diciamo Testando alcuni mezzi E quindi Come vedete Qua c'è le simpatrici E i carri Desportatori E niente C'è anche Una Diciamo No diciamo Perché è una mod Quindi già è stata Rilasciata Penso che era L'avranno Convertita Non lo so Però ragazzi Se andate sul Sul Motos Non sul Motos Sul Sul Motab C'è C'è Money Tool Quindi ragazzi Con un tasto Voi Direttamente Aggiungete Un milione Poi ragazzi Vedete Vedete voi Però a mio parere Secondo me È meglio La mod Però Ognuno Può fare Quello Che vuole Cioè Non la mod Direttamente Modificarla Dalla Carriera Direttamente Nella cartiera Va bene Ragazzi Spero che Questo video Vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi Iscrivetevi Nella mia pagina Facebook E noi Ci rivediamo In un prossimo Video Ciao Ciao Aperta Il sole In parte